Oltre 2 milioni di chili raccolti nel 2017, con un incremento del 18% rispetto a due anni fa, sono i numeri relativi alla raccolta di pile e di accumulatori portatili registrati dalla Lombardia, che si conferma la regione più virtuosa d'Italia. A rivelarlo, la quarta edizione del rapporto annuale pubblicato dal Centro di Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori, presentata questa mattina in Comuna a Como. A contribuire a questo risultato anche il territorio della provincia di Como, con una raccolta che supera i 27 mila chili effettuata negli 83 punti presenti sul territorio. E proprio Como, città natale di Alessandro Volta, è stata teatro dell'evento finale del progetto Una Pila alla Volta, l'iniziativa di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata di pile e accumulatori portatili, promossa dal Centro di Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori e patrocinata dal Ministero dell'Ambiente. Centinaia di squadre di ragazze e ragazze si sono affrontati in sfida a distanza sul tema del riciclo delle batterie, ad aggiudicarsi il titolo per la categoria Sport Tempo Libero e Fulminati di Sant'Orso, mentre per la categoria Scuola e Cultura Gli Impilati di Cernobbio. Noi vogliamo fare un discorso che attraverso le pile si espanda anche a tutto ciò che è rifiuto tecnologico e rifiuto differenziabile, perché vorremmo che i giovani capissero l'importanza di fare le cose che servono a fare in modo che l'ambiente diventi migliore di quello che è.